Ho cambiato vita Siamo Nina, Danila, Anna e Stefano A gennaio 2020 ci siamo uniti per creare un progetto che coinvolgesse tutti coloro che hanno rivoluzionato la loro vita Tra di noi c'è chi ha cambiato tutto per vivere con estrema passione C'è chi parte e chi resta Chi viaggia per il mondo e chi intraprende lunghi viaggi interiori Non è importante come decidiamo di cambiare le nostre vite Ciò che conta è che il cambiamento avvenga perché la vita è troppo preziosa per sprecarla vivendo infelici Siamo convinti che ogni singola storia abbia l'immenso potere di ispirare e spronare chiunque Desideri cambiare ma non osa farlo Per questo nasce Ho cambiato vita perché a volte basta un gesto Una parola, un racconto Quello stimolo in più è una vita cambia E noi siamo qui per raccontarvi che il cambiamento è dentro di noi